A me non sembra. Ti do solo ordini, come hai i tuoi colleghi. E beh, devo dire la verità, ti do la divisa, ti sta proprio bene. Eh sì, ma poi c'hai la storia addosso, un bel pezzo di storia. Ti slancia, vedete troppo che... ti fa sempre più alto. Stai prendendo in giro? No. Che è qua? Oh, mamma mia! Io sapevo... Che è fatto? Si è piccata... Animale! Entrate di nascosto, ti soppiattano. Si sono sentite le luci, chiediamo di ripristinare un attimo. Ma non è che paura mi sono messo. Non vi preoccupate, non vi preoccupate, è tutto sotto controllo, è tutto sotto controllo. Ma che controllo, tu? Che stai controllando? Prego, prego. Ma vieni, chiamo a fare che canela. Che cos'è? Sistema ausiliario di illuminazione. Ecco qua. Sistema? Proseguite, andate tranquilli, proseguite. No, ma noi stiamo in diretta. Che cosa si fa? Deve venire la luce. E ora arriva per il momento di raggiungere. Ma resta, non vi dimenticate la fotografia a mia moglie. Cioè, mi raccomando. Ora ci chiedemelo da... Ma perché mi ha dato un mozzone giocotto con la candela, secondo te? Eh, però, proporzionato all'altezza, che c'è? Mi hai fatto la battuta, infatti. Guarda che non sei molto più alto di me. Ma qual è la battuta? È la realtà dei fatti. Mi hai fatto la pazienza. E che saranno? 3-4 centimetri? Gulliver e Lilliput. Gulliver addirittura. Gulliver e Lilliput. Vabbè, li ha... Vabbè, chiedo scusa. Se la corrente non arrivi, io direi... Eh? Di dire buonanotte. Vogliamo di buonanotte? Diciamo buonanotte a sudamare. Vogliamo di buonasera? Buonasera. Buongiorno. Dicimmi una cosa.